Sì, amici di Globus Television, Antonella Guglielmino per questa nuova puntata della rubrica faccia a faccia. Ci eravamo lasciati, si stava per affrontare uno sciopero generale ed ecco nuovamente qui, dopo essere stato rieletto con un plebiscito, il nostro amico Giuseppe Lanzafame, grazie di essere qui con noi, che ricordiamo è il segretario regionale di SLP CISL Sicilia. E allora, com'è andata questa votazione? Grazie dell'opportunità, un saluto anche a te, delle spettatori. Com'è andata il congresso? Certo, il congresso. Diciamo che c'è stato un buon dibattito, è un periodo in cui la CISL e le nostre federazioni sono quasi tutte al congresso per rinnovare il gruppo dirigente ed è un'occasione assolutamente importante appunto per fare il punto della situazione per quanto riguarda la nostra federazione, la nostra categoria, ma anche per spaziare un po'. E lì diamo un indirizzo, i delegati danno un indirizzo rispetto a quelle che sono le prospettive della nostra azienda. C'è stato, ripeto, un buon dibattito e certamente abbiamo colto, ma questo lo capivamo e l'abbiamo ben compreso da mesi a questa parte, una preoccupazione da parte dei lavoratori, dove capiscono, vedono, toccano con mano che questa azienda, certamente i servizi non stanno andando così come dovrebbero dare qualità alla clientela. Qual è stato il cambiamento che c'è stato dopo lo sciopero che c'è stato importante? Quale segnale forte avete dato? Lo sciopero è stato importantissimo e questo qui è l'aspetto positivo. Dopo la presa di posizione nostra, lo sciopero e tanti sitini che ci sono in tutta la nazione, ma anche ci sono stati a livello regionale, una presa di posizione anche da parte della politica c'è stata. Era scontato a novembre l'altra parte di privatizzazione, quindi quotazione in borsa della nostra azienda e per adesso è stata bloccata. Questo è figlio delle manifestazioni, delle prese di posizione e perché no anche la politica si è resa conto che probabilmente stava per fare uno scempio. Oggi proprio possiamo definire uno scempio perché proprio ieri quel che è successo nel nostro paese, in Alitalia, la dice lunga sul piano di privatizzazione. Quindi su questo le preoccupazioni ci sono e noi non abbasseremo assolutamente la guardia perché ci sono 140 mila famiglie da difendere, ma anche i servizi e sicuramente una grande azienda nel paese. Sicuramente adesso ci saranno una serie di congressi per affrontare meglio le varie problematiche e le varie tematiche. Sì, sicuramente. La prossima settimana avremo il congresso regionale della CISL a Palermo, ma nel mese di maggio avremo anche il nostro congresso nazionale e poi si concluderà con quello confederale che rilancerà l'azione della CISL rispetto alle problematiche che ci sono nei settori, nella pubblica amministrazione, ma anche, ripeto, per quanto ci riguarda la nostra federazione. Speriamo, con l'avvento, perché nel frattempo c'è stato anche questo, il cambio della guardia, l'amministratore delegato in poste italiane, di poter riprendere il dialogo che è venuto meno in questi anni. E venendo meno il dialogo, purtroppo abbiamo ben capito, abbiamo ben compreso, ma soprattutto chi lavora nella nostra azienda, che cosa è venuto meno. Sono venute meno le relazioni industriali, ma sono venute meno la qualità del servizio. Chi non ricorda, e che purtroppo ancora lo stiamo subendo, lo scembio che è stato appunto fatto sul servizio di recapito, ancora oggi, dopo il progetto presentato da parte dell'amministratore delegato, che appunto, diciamo, non c'è più, ancora purtroppo nel territorio sia la clientela che i lavoratori stanno subendo quel caos e noi speriamo e chiederemo al nuovo margine di rimettere mano al piano industriale di quel settore, ma non soltanto. Eh certo, mi sembra anche giusto, anche perché dobbiamo dire che i recapiti, specialmente nella provincia di Catania, non, diciamo che non sono molto puntuali. Le cose arrivano dopo 3-4 giorni, insomma c'è abbastanza di servizio da questo punto di vista. Se questo può soddisfare, ma non è una soddisfazione, purtroppo non è soltanto nella provincia di Catania, ma in tutta la Sicilia e in tutta la nazione. perché questo piano era applicabile e sta per essere applicato in due anni in tutta la nazione. È partita in termini sperimentali nella nostra regione, i risultati sono quello che sono, ma vi posso assicurare, purtroppo, che anche nelle altre regioni questa riorganizzazione è andata sicuramente a non rispettare né i lavoratori né la clientela. Quindi bisogna rimettere mano in modo proprio repentino a questa riorganizzazione stessa. Se in un settore di 60.000 dipendenti non si vuole veramente nei prossimi mesi osere dire, affermare un qualche cosa che noi non auspichiamo, ma può rasentare in effetti la chiusura. Speriamo di no. Speriamo di no, sicuramente sì. Cosa significa la privatizzazione dell'azienda? Ci vuole spiegare cos'è successo ai nostri telespettatori? Prima, ricordiamo, i Posti Italiane era un'azienda a capitale pubblico. E poi? Ma lo ribadiamo. È dal giorno in cui una quota, una parte dell'azienda che è stata quotata, il 35%, che diciamo così non abbiamo avuto più pace e nel frattempo, dopo il 2015, il governo Renzi, poi si è ricreduto, il governo Renzi aveva deciso di quotare quasi definitivamente l'azienda in borsa, quindi privatizzarla in modo totale. Cosa significava, cosa avrebbe significato, ma lo tocchiamo anche con mano, perché giorno dopo giorno, nei settori c'è questo spauracchio da parte della dirigenza come per dire attenzione se arriva alla privatizzazione. Ebbene, se arriva alla privatizzazione purtroppo abbiamo capito cosa significa privatizzazione. Abbiamo capito che non interessa al manager o comunque ai mercati quello che può essere un servizio postale, ma non interessa ancora peggio se è un servizio postale che non c'è neanche la qualità. Noi invece abbiamo una riforma che abbiamo detto a questa azienda che possiamo riprendere quel settore capendo che molto prodotto è venuto o meno, ma inserendo nuovi prodotti come i pacchi. Addirittura abbiamo letto tramite un comunicato stampa che l'ingegnere Caio si è confermato che aveva quasi deciso di disparsi di quel poco prodotto che stava entrando nei nostri settori che poteva soddisfare al mantenimento, diciamolo così, dei posti di lavoro, pare che lo si stava vendendo ad altri competitor. Quindi eravamo preoccupati e lo continuiamo ad essere preoccupati, ma non è da meno l'altro settore del cosiddetto banco posta. Ormai la digitalizzazione ha invaso tutte le aziende, leggevo stamattina anche purtroppo nel settore bancario che stanno chiudendo alcune agenzie e le transazioni venendo meno anche da noi si parla, si inizia a sussurrare che qualche settore, qualche ufficio postale potrebbe chiudere perché poco sono le transazioni. Ci rendiamo conto, ma se non c'è un progetto industriale serio che guarda queste nuove tecnologie, che guarda ad erogare ulteriori servizi alla clientela. E' chiaro che noi nei prossimi mesi andremo a trattare quello che altre aziende di Stato o comunque private che stanno purtroppo subendo. Ahimè la situazione è piuttosto critica perché ricordiamo che in poste qui in Sicilia quanti sono i lavoratori? I lavoratori sono oltre 10.000 lavoratori. E quindi significa avvenire meno posti di lavoro e quindi famiglie messe nuovamente, cioè non ovviamente sono in mezzo alla strada perché senza lavoro non si canta messa, così come si dice da tutte le parti insomma. E allora quali sono le prospettive che si delineano per i lavoratori? Ricordiamo che questa categoria dopo tanti sacrifici ancora non ha un contratto di lavoro. Lo ricordiamo che da cinque anni eravamo proprio con la gestione Caio a firmare un rinnovo contrattuale e anche questo è saltato. Non abbiamo ben capito se è stato voluto o non voluto o comunque pianificato. Ma i lavoratori non hanno un contratto di lavoro. Quindi la prima cosa che chiederemo al nuovo management è appunto la firma del contratto perché questi lavoratori, 140.000 negli anni, in effetti hanno rinnovato questo settore. Per il resto è chiaro che chiederemo un nuovo piano industriale. Io faccio un esempio. L'ingegnere Caio ha presentato quando si insediò due anni fa un nuovo piano industriale che andava a guardare, a far riferimento ai cinque anni, 2020. Come abbiamo ben capito, lui non c'è più. Il piano industriale è rimasto obsoleto per noi. È obsoleto perché diceva quel piano stesso da noi, in parte contestato, che guardava ad 8.000 assunzioni che non ci sono mai state. Ma non è soltanto questo. Guardava a un rinnovo, a una digitalizzazione anch'essa che non c'è stata. Per cui rimettiamo mano, che per noi è importantissima, è l'immagine di poste italiane al servizio di corrispondenza di poste della logistica, per poi darci una strategia anche nel settore bancoposta perché vanno riorganizzati anche quei settori. Noi abbiamo una precarietà, la chiamiamo precarietà intesa come in Sicilia, ma in Italia ci sono 10.000, circa 1.000 lavoratori part-time. 1.000 lavoratori part-time che da sei anni non vengono trasformati dal rapporto di lavoro a full-time. Bene, capiamo anche noi che se non c'è sviluppo questi ragazzi, figli di dipendenti esodati, che ancora alcuni non percepiscono la pensione, non avranno futuro. Per noi questa è una battaglia per il lavoro, per il servizio, per la qualità. Noi amiamo questa azienda, la vogliamo viva, la vogliamo sicuramente, un'azienda di prospettive, capendo benissimo che il mercato nell'Occidente è un mercato che sta creando grosse difficoltà, ma se non presentiamo un piano di sviluppo serio è chiaro che subiremo e noi comunicheremo ai lavoratori quello che altri purtroppo stanno facendo e non vogliamo che si arrivasse a quella fine. Una cosa che non capisco, io se vado in un qualsiasi banco posta, così come diceva lei, devo sorbirmi una fila interminabile, poi si bloccano i terminali, poi non ci sono uno sportello dove ci sono tre sportelli, ce ne funziona solamente uno. Insomma, noi cittadini perché dovremmo scegliere banco posta? Ed era questo il riferimento che facevo poco fa. Noi vogliamo qualità del servizio, la qualità si può anche avere investendo. Quest'azienda non investe in nuove tecnologie, lo dice ma non lo fa. Se mi è permesso, posso fare l'esempio anche nel settore postale, come si può recapitare il prodotto, il portalettere può uscire, lo dico per la clientela, alla consegna del prodotto quando questa azienda non ha investito, non gli dà neanche l'automezzo o il motomezzo. Quindi ecco, gli investimenti, anziché, scusando l'espressione, gettare soldi così come è stato fatto e noi l'abbiamo contestato quando questa azienda ha dato, ha regalato, tra virgolette, posti all'Alitalia, potevano essere dati in questa azienda in termini di sviluppo. Perché noi non credevamo a quel piano che anche nel nostro piccolo avevamo sottolineato che erano dei soldi, come si vuol dire, a perdere. Noi vogliamo degli investimenti perché la clientela debba servirsi dei nostri servizi, certamente con un tempo che sia adeguato a quelle che sono appunto le nuove tecnologie che talvolta non ci sono, ma speriamo di recuperare. Noi ci auguriamo per tutti noi, insomma soprattutto per i lavoratori che appunto lavorano in posti italiani. Adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo subito dopo. A dopo. A Catania in via Sassari 2H c'è AVS Elettronica, il centro assistenza che ti conquista. Info 095 44 66 96 Stanchi dai soliti problemi condominiali? Affidati ad uno studio di amministrazione condominiale professionale. Lo studio SAC di Contino Filippo & Partners offre professionalità, competenza, organizzazione e trasparenza nella gestione condominiale. SAC per amministrazioni di condomini di immobili, immobili privati, società ed enti. SAC di Contino Filippo & Partners lo trovi a Largo Rosolino Pilo 39 di Catania. Per contatti telefona allo 095 44 94 60 o puoi inviare una mail a info-sac-di-contino.it Il tuo condominio in mani sicure. Faccia a faccia, qui con me c'è Giuseppe Lanzapame che è stato riconfermato segretario regionale SLP della Sicilia. Stiamo parlando delle preoccupazioni che affliggono anche la categoria ai miei lavoratori perché ci sono tagli, previsti tagli. La privatizzazione non ha portato nulla di buono, così come si pensava all'inizio. Ma allora come sindacato quale lotta sta portando avanti? Sembrerebbe paradossale, ma l'abbiamo capito anche noi. Noi stiamo portando avanti la qualità dei servizi. Noi esigiamo la qualità dei servizi perché appunto il mercato lo esige. Se non eroghiamo qualità, è chiaro che diviene tutto automatico in questo libero mercato anche del lavoro e guardare in prospettiva in termini negativi per il lavoro store stesse. Quindi noi lo sottolineiamo e lo vogliamo sottolineare, l'abbiamo sottolineato in fretta perché non c'è tempo da perdere. La prossima settimana si insedierà fisicamente il nuovo management. È chiaro che noi nei prossimi giorni lo incontreremo, non noi solleciteremo perché dobbiamo dire qual è la nostra prospettiva e il nostro pensiero su questa azienda. Non c'è un settore dell'azienda dove il lavoratore, mi dispiace sottolinearlo, non è minacciato perché il lavoratore è pressato da tutte le parti, dalla clientela perché esige la qualità e non è colpa del lavoratore che talvolta non c'è. Dall'altra parte del capo che bisogna fare sempre budget, che bisogna fare sempre obiettivi, vendita giornaliera, sia da una parte che dall'altra. Dall'altra, intendo dire, su PCL, che sarebbe il settore postale, c'è questo paradosso, è impossibile recapitare in alcuni centri dove si è tagliato il 50% delle zone di recapito e pretendere dallo stesso portalettere l'azzeramento, quindi la consegna di tutto il prodotto alla clientela, perché se questo non avviene, dall'altra parte arrivano i procedimenti disciplinari. Quindi c'è un clima che certamente noi vogliamo sottolineare al nuovo manager, che non può portare positività all'azienda e naturalmente ai lavoratori. Questo clima di caccia alle streghe, questo clima di fare sempre di più ogni giorno, ci sta però a sempre dei limiti. Certo, lavorare per obiettivi è importante, però chiaramente bisogna capire anche la forza come distribuita, perché sennò è impossibile, no? Ma non solo, anche gli strumenti che si danno, che si dovrebbero dare alla clientela stessa. All'epoca portava da cliente un esempio al momento in cui si ci rega un ufficio postale e ci sono delle operazioni che non sono tutti quanti uguali. E per effetto di strumenti che non vengono dati al lavoratore, si ci deve aspettare mezz'ora, tre quarti d'ora per fare un'operazione. Bene, quello dico in termini molto banali, che colpa ha il lavoratore allo sportello se quello strumento che dovrebbe essere dato alla nuova tecnologia il datore del lavoro non la mette a disposizione. Ecco, questo noi chiediamo perché siamo una categoria di responsabili e capiamo bene quello che è il nuovo, il nuovo che avanza purtroppo che non è sempre positivo per i lavoratori. E va bene, ma forse Poste Italiane prima nel passato ha avuto una politica diciamo così, un po' lassista diciamo così tra virgolette e ora chiaramente i nodi sono venuti al pettine. Può essere che è successo questo? Ma non voglio essere presuntuoso nel sottolineare questo aspetto. I lavoratori, Poste, il sindacato e l'azienda ha anticipato il sistema paese e da 15 anni a questa parte aveva visto bene quali erano le prospettive. E proprio perché anni fa abbiamo fatto queste battaglie oggi noi ci troviamo con i posti di lavoro e abbiamo dato e abbiamo fatto tanto in Poste Italiane. Bene, oggi c'è una fase che bisogna fermarsi ma subito decidere cosa fare nei prossimi anni di questa azienda. Quindi per quanto riguarda Poste Italiane da 15 anni ci sono attivi di bilancio. Non abbiamo ben capito perché questa azienda dove tra virgolette il datore di lavoro è lo Stato tramite i dividendi, ogni anno appunto tramite i dividendi lo Stato percepiva dei soldini, dei milioni e voleva a tutti i costi e vorrebbe, non oggi a tutti i costi non lo possiamo dire perché è stata bloccata vendersi una parte di Poste Italiane. Forse, non forse. Il 5% e il 50%. Oltre il 50%. Per recuperare quei 2 miliardi, così si dice per darle al debito pubblico una goccia nel lago anzi nel mare e nel oceano appunto. Ma tutto questo però a discapito dei sacrifici che da 15 anni a questa parte si sono impegnati i lavoratori e i sindacati che hanno avuto l'intuizione tanti anni fa di dover cambiare allora, però oggi si è arrivati al limite. Oggi non vediamo una prospettiva seria, ma noi la pretendiamo, la sollecitiamo anche con forme di lotta che noi faremo, decideremo se anche questo management naturalmente non ci ascolterà per quel fine, per quell'obiettivo. Noi non chiediamo privilegi. Un dipendente di Poste Italiane ha una media di 20-25 anni di servizio e guadagna 1200 euro. Quindi non credo che sia privilegio questo. Anzi, chiediamo, ribadisco, il rinnovo del contratto, ma vogliamo che questa azienda si dia una prospettiva e ci sono le condizioni. Il vostro contratto di lavoro a che periodo risale? È scaduto da 5 anni. Ah, solo da 5 anni? Solo da 5 anni, sì. Quindi non sono stati adeguati con i nuovi cambiamenti che ci sono stati? No. No. Purtroppo economicamente non sono stati adeguati, così come si diceva, ed è un dovere da parte del datore di lavoro rinnovarlo, perché, così come è stato dichiarato nell'ultimo consiglio di amministrazione, questa azienda anche nel 2016 ci sono stati ricavi pari ad un miliardo di euro. Quindi non è un'azienda che è in perdita. In perdita, ecco. Quindi non ci sembra proprio, in questo caso, non capiamo il perché non si voglia rinnovare. Forse non è soltanto la parte economica che l'azienda vorrebbe o non vorrebbe rinnovare, ma non è questo, ma soprattutto la parte, quella del rinnovo contrattuale, l'azienda vorrebbe molto più flessibilità nei confronti dei lavoratori e questo ci sembra eccessivo, dato che di flessibilità in questa azienda ne abbiamo date, i lavoratori danno abbastanza. Sì, perché tra l'altro venite spostati da un ufficio all'altro, come se, insomma, palline di ping pong, anche perché dobbiamo dire che noi utenti siamo degli affessionados, cioè creiamo sempre un legame con quel signore, piuttosto che con la signorina che sta al di là del bancone, diciamo così. Invece questo cambiamento un pochettino destabilizza l'utente. Sì, anche questo. Io quando parlavo di flessibilità intendevo di diritti. L'azienda vorrebbe sempre meno applicare i diritti, è molto più umane e libere. E a questo, è quel che diceva lei, per noi è anche un aspetto positivo. Lo abbiamo sottolineato all'azienda stessa che l'interfaccia, quindi il cliente vorrebbe anche per certi versi convidarsi col direttore dell'ufficio, con l'operatore di sportello, ma anche col portalettere. Quindi questo cambiamento, qualora ci fosse, c'è, per certi versi, della persona fisica che si trova sempre a essere trasferita o comunque distaccata, non porta bene alla clientela perché ci sono una tipologia di clienti, come ad esempio i pensionati, che vorrebbero indefacciarsi appunto sempre con lo stesso consulente. No, ma anche col portalettere, diciamo tutto. Assolutamente sì, assolutamente sì. È più facile, specialmente nei piccoli centri, incontrarsi, scambiare le due parole, insomma un rapporto più umano. Non siamo cyborg, giusto? Infatti si parla di robottistica, noi cerchiamo di rigettarla, anche se sappiamo che molte di queste nuove tecnologie sono o dovrebbero essere a supporto dei nostri settori, però il rapporto umano per quello che è post-italiano è assolutamente l'arma vincente, che potrebbe portare più ricavi in questa azienda. E noi speriamo, incrociamo le dita, la salutiamo e la ringraziamo di essere stato qui nuovamente con noi. Grazie a voi. Mi auguro di ospitarla nuovamente a obiettivi raggiunti, perché mi sembra che i lavoratori ne hanno di diritto e di bisogno, e noi ci vediamo per la prossima rubrica. Alla prossima, ciao. Grazie.